Ma che cazzo dei nomi? Io ho capito che sono le pedine standard Max Sara Togli sta cazzo di roba e fammi vedere E Talia Perché vedo delle icone differenti Questo è un ladro Questo è un ladro sicuramente Talia è un guerriero Lui ha questa icona nuova Che penso sia forse per il mago Sì il mago gli hanno cambiato l'iconcina Oh bello però sto sistema di mettere i sottotitoli Fai vedere Ah proprio fuori dall'accampamento così i goblin brutalmente Madonna col controllo e l'arco sarà una merda Se non l'hanno gestito bene Appunto Le animazioni sono molto belle Sono molto fisiche Cioè sono molto meno meccaniche Rispetto all'originale Sto vedendo sta cosa Cioè sono molto più che si adattano come cammini Con tutti gli abiti Figa figa L'altro bello è che le pedine Nei dialoghi anche interagiscono tra di loro Figo Madonna che bello però graficamente La madonna che cazzo era Quella nè è una botta di arco Una sniperata sui denti Sotto c'è la stamina con la vita Oh Oh aspettate che ho visto una cosa In basso a sinistra Hanno aggiunto un menu Dei comandi Speriamo che è una roba personalizzabile Cioè tu magari puoi mettergli determinate cose Perché vedo che c'è per mettere la lanterna Facci del logo che c'hai messo sopra Penso sia go to tipo reaction O command menu Una roba del genere Figo Meno male Vabbè lose l'attacco standard Ci stanno effettivamente delle combo Vabbè quello era il mago Io continuo a dire però che sti gameplay Mi metterei un attimo a sperimentare Cioè a fare delle robe Un attimo Non semplicemente a correre in giro E così sembra mostrante reward Per come sta giocando Sì madonna quanto se vede che questo non è un giocatore di dragon's dog Ma perché corre come un addannato finendo la stamina Eh sì Zio però se devi fare il gameplay falli bene È bello graficamente Sì è bello Mi devi far vedere il gameplay dio cristo Cioè io tipo la prima cosa che mi sarei messo a fare nel gameplay È lanciarmi in acqua Mi sarei lanciato in acqua per dire Oh ci stanno ancora quegli spiriti del cazzo O hanno aggiunto che posso nuotare Lanciati nel dirubo per favore Quel punto è palesemente distruttibile Cioè proprio per come è strutturato De modello Palese Questo figo che ti introducono così Stronghold raised by dragon's fire Che tra l'altro chissà qua pure la faccenda del drago Come viene introdotta Perché da quel che si è capito ci sta un arisen Che è un finto arisen Sarebbe bello se noi facessimo magari parte dei soldati Che assaltano il drago E lì scopriamo di esserlo Con tutto l'amore del creato Che te posso voler Fammi vedere del gameplay dio cristo Bella l'interazione Ok C'è Grigori eh Ci ho preso Siamo un soldato Che ha saltato insieme alle pedine Madò Bellissimo Madò ancora più mastodontico Bello che ci sta un soldato Che ha detto Zio ma che ti sei fumato Ma stai saltando Salendo sul drago Perché questa è una cosa Tra questo come uno O forse magari ci manca la memoria Cioè ci ha avuto un flash De quando ha affrontato il drago Sì vabbè ma questo Per quanto è bello Sì non me ne frega niente Ma questo non è stato un gameplay ragazzi Ma no ma neanche Cioè ti fa spizzare un attimo di trama Ma è un gameplay fatto Da una persona che non ha giocato Mai Dragon's Dogma E basta Allora questo si chiama di nuovo George Che è un arciere Wachonaihoe Che è il mago Sara di nuovo E un guerriero Leonide Ti prego lanciati in acqua Se sei bravo Se fai gameplay Se sei un giocatore Ti lanci in acqua Non si lancia in acqua Vai da quel cazzo di grifone E fammi vedere No non scappare Vai dal grifone Sì bella la città Bellissima la città Dio caro Vai da qualche parte Cazzo è diventato Death Stranding Però una cosa che stavo vedendo Anche dal primo trailer Che ci hanno fatto vedere il gameplay È che il guerriero è diventato Molto più scherma Vera e propria Cioè è diventato molto Scherma medievale Perché combatte tutto così Che ti colpisci In quel modo È molto meno Action fantasy Ed è molto più Madonna No queste sono proprio Delle animazioni Che partono Quando tu uccidi Fighissimo È diventato ripeto Molto più Vero il guerriero Per come combatte Va molto più sulla difensiva Perché giustamente Proprio di scherma Quando tu combatti Spada e scudo Non hai uno spadone a due mani O qualche altra Spada bastarda Sei difensivo Tanto bellissimo L'effetto del fuoco Sulle armi Bellissimo È proprio in fiamme Non è semplicemente accesa Vabbè è morta la pedina Questo Lo traduco io Fluenti in giapponese Ragazzi io sono È morto Franco Ah c'è proprio Fanculo il mago Se siamo visti Ah adesso c'è una barra Finalmente sulla pedina Per farti capire Quando sta per andarsene A fanculo Mi sa che sta venendo Sbarranata da un grifone Vai a parare il culo Qua a pedina Per favore Ragazzi sto schippacchiando Qua a destra e sinistra Perché vorrei vedere Un attimo di Cioè che ne so Come workano i perri L'ho visto una grab Di un lupo Figa Io capisco pure che Se tu sei una persona Occidentale Che ti mettono in mano Il gioco in giapponese Infatti però Porca puttana Io ho capito che siamo Al Tokyo Game Show Però mettegli una versione Inglese Stupida Perché là vedo Go help Wait come Quindi c'è Stai in inglese Cioè dagliene due Di versioni Questo è proprio Una piccola quest Casua Uh 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 C'è un ogre Minchia così poca stance C'ha il guerriero Cioè si fa stannare Da un goblin Ma serio Ma penso allora Che ci sarà una statistica Adesso Perché il guerriero Non si fa stannare Così facilmente Poi dipende pure Dal livello Eh per carico Da del certo Uh no no Ci sono Ci stanno delle cose Di tempistica Se tu mentre fai La combo Ho visto che c'è stato un Vediamo se riesco A farvelo vedere Quando lui fa la combo C'è un rallenty Che gli permette Di fare un critico Forse hanno una sorta Di stance Hanno una stance Che se gliela rompi Gli puoi fare un attacco Critico Sì no ma è molto interessante Però il fatto è che Cioè datelo in mano A una persona Che sa Che cazzo sta mettendo le mani Perché io per Kaida Mo pure vedendolo in giapponese Fossi Un player So già sicuramente Che con R1 Quadrato Mi fa il blink Strike Cioè P8 E Dodd Vado da fondo Lui sta andando Di colpo base Basta Cioè non sta provando Nemmeno ad alzare Lo scudo Cioè tipo che adesso Sicuramente tira È Uh Bella sta fisica Bellissima Non è stato semplicemente Un boom Stop C'è stata proprio Della fisica E si sono rubati Il tuo signorino Aia Figa sta cosa Cioè la botta Non l'ha fatto rialzare subito Non è che non ha stamina Sta stannato per terra Quindi o ci metti Un tot a rialzarti Percazzi tuoi O te devi venire Da una mano una pedina Immagino sicuramente Che ci sarà qualche Capacità che ti permette Magari di rimanere Meno stannato Penso questo sia proprio L'effetto stun Probabilmente Che ne so Arrampicati Vagli sulla schiena Dai Stasera ci sta un leech Molto critico E molto cinico ragazzi Alza quello Porca madonna Di scudo Non è un figa di giocattolo Quello scudo di merda È uno scudo Però adesso Non sono più Punti disciplina Sono JP Sono punti Vocazione giustamente Job point Io vedete In mezzo a tutta sta merda Sto almeno estrapolando Qualche info Oh Gli ha messo una bomba Sul braccio mi sa Quella sicuramente Se la colpisce qualche alleato La fa esplodere Ho fatto Perché il guerriero Cioè se ti fa un perry Ragazzi Per chi ha visto Il video della vocazione Del guerriero Che ho fatto Io con un perry Ho abbattuto una chimera La chimera Ma ha caricato E l'ho tirata giù Cioè lui Sta andando molto Però dovrebbe usare Lo scudo Cioè mi sta intrigando Anche la grafica Le interazioni Che sto vedendo Neko Allora Capcom Posso darti un consiglio Semmai vedrai questa live Da nove persone Prendi una persona brava Che sa giocare il gioco Fagli fare Mezz'ora De gameplay Fatto bene E pubblicalo Perché questo Io già me lo immagino IGN che fa Uno dei giochi Action GDR Più difficile Del mondo Non riesci a ammazzare niente Tutto te fanno sbreco De danni Voli via Vieni shottato Impossibile Souls like Ci mettiamo pure Già me lo immagino Attenzione Ha scoperto Una combo nuova Quello è l'attacco In salto pesante Del guerriero ragazzi Ecco spero che te Scrocchia male Sta spammando tutto Sto signorino Eh ok Abbiamo spolverato Il tappeto Oh grazie L'ha forzato il gioco Sì Ci sono quei Spettri di merda Non si può notare Peccato Oh aspetta che forse Salva George Ah non è istantaneo Bravi Perché veramente Rialzare le pedine Era qualcosa di Che ti rendeva Praticamente immortale In un fight Chissà se anche tu Puoi essere rialzato In questo Perché vedo che hanno Mantenuto in basso La barra bianca Cioè quella che ti poi Riprende Con gli incantesimi E compaguarda Si erano totalmente Tanti coglioni Che si è ammazzato Da solo zio Job rank Vedete ci ho preso È diventato un job Ah le pedine finalmente Non muoiono come delle Stronze nell'acqua Ma ritornano Sarebbe figo Ma infatti Sono curioso di vedere Infatti vedi pure Quella porca puttana Apri un cazzo di menù Vai a vedere Che cazzo c'è Sulla pedina Nel tuo inventario Perché voglio sapere Anche il sistema Delle inclinazioni Ma sentito Buono Fermi tutti Ah ma sei un livello 15 L'inclinazione della pedina Sia una delle robe Più belle in assoluto Perché l'avete visto Anche con me Proprio durante la serie Che io facevo vedere Una cosa alla pedina Che non faceva mai Gliela facevo vedere Una volta E poi cominciavo A farla anche lei Era una figata Esatto c'è la gente Che ha droppato Tra uno sdogma Perché vedeva Le pedine stupide Ma non ha capito Che appunto Sono stupide Perché sono nate Da dieci minuti Cioè sono dei bambini Abbiamo item Map quest Keep my status Vai su quel cazzo di status Adoro esteticamente Tutta la fisica Una cosa che a me Mi ha sempre dato al cazzo Per esempio nell'originale E che ne so Che tu correvi da mago C'avevi l'abito Attaccato dietro qua Come con lo scotch Tutto duro Mentre qua è molto fisica La cosa Vedi tutto che si muove Che si adatta Perché ce ne dovrebbe essere Un ultimo ragazzi Di una persona Che io stimo tanto Il fatto è che io Come ho detto sempre Io spero semplicemente Che loro abbiano preso Dragon's Dogma 1 E l'hanno completato Lo dirò per sempre Nel 2012 Se ci avessero creduto De più E ci avessero un attimo Messo molto più impegno Noi oggigiorno Non avevamo soltanto I Souls like Ma magari avevamo Anche i Dragon's Dogma like Dragon's Dogma Nella sua forma Base dell'uno È una madonna Sotto il punto di vista Del gameplay Dell'IA Delle pedine Che va a svilupparsi E compagnia Peccato per tutto il resto Perché la storia È proprio Zero quasi Se non è la quest principale E le host Per carità pure pure Se salvano Però È gameplay Sembra Una beta di questo E l'hanno bruciato Perché sì Perché purtroppo All'epoca Era quel periodo In cui la Capcom Non credeva Nel mercato occidentale Cioè per lo stesso motivo Per cui per moltissimi anni Noi in occidente Non abbiamo avuto I Monster Hunter Che non fossero Su una console normale Ma che dovevi Andatele a giocare A cazzo Poi è uscito World Che può piacere O non piacere Ma che ha venduto 50 milioni Dei copie Hanno detto Porca puttana Tirano i giochi Ma vediamo The Rift Fratello Di altra madre Eccoci qua Che cazzo fa The Rift È la prima cosa Così La prima cosa Questo è The Rift Per chi non lo conecesse È un altro Grandissimo fan Di Dragon's Dogma Che fa le cose Bravo Cazzo No in questo scenario Devi averci Giorgio e Sara Credo Ok Attacco in salto pesante Baffato dal fuoco Col mago Più danni ai goblin Ho visto Una combo particolare Erano tre normali Con un pesante Quindi cambia Oh Che cos'era Quella roba Bellissimo L'effetto del fuoco Sulle armi Bellissimo È proprio In fiamme Uh Spacca elmi Questo è da È un ladro Una smoke bomb Questo ragazzi Vedete Sono sei minuti Sarà meglio De quell'altro Sì comunque C'è del ghosting Pesantissimo In ogni cosa Che sto a vedere Madonna De Cristo Che cos'era Un assassino Mi sa Ti sì Perché giustamente È un ladro Mi fa un po' strana L'animazione Di come corre Con i pugnai Di fuori Perché Non so Un ladro Me lo immaginavo Con girati L'impugnatura Inversa Però Sti cazzi Questo è uno stregone Madonna Che belle Ste animazioni Di movimento Un goblin Che stava cacciando Un coniglio Bellissimo Minchia bello Se magari puoi attirarli Perché hai preso il goblin Lo vuoi lanciare nel fiume Non ci arriverai mai Io te lo dico Si è fatto male cadendo Spero che la fisica Giochi veramente tanto Perché il fatto è che Purtroppo In dragon's dog Ma c'erano incadesimi Che ti portavano in alto E ti facevano cadere Però Non facevano danni Qui invece Se tu li fai volare Li sbatti per terra Fa danno Giustamente Questo però mi piace Perché è andato Proprio in giro A correre Per fare Per sperimentare Per vedere le robe Vediamo se ci si può Arrampicare Però vedo che c'è Un'animazione Tipo per volare Cioè che va in caduta Libera Non così grave Forse Sarà anche della verticalità Col grifone Sempre Uh Un ciclope Fammi idea Alberi che esplodono Ovviamente Neanche una matrioska Esplode così Lo stava spingendo Però perché C'è spingere un ciclope Eh Peccato per l'acqua Sì Poi se l'avranno voluta Mantenere Perché appunto C'è La taglia è stata Schiacciata dal ciclope Fortissimo L'avranno voluta Mantenere per quella cosa Degli spettri O che game design Magari Vabbè che è un guerriero In full plate Che cade in acqua Voglio vederlo Vedo anche un bel turbine Di lame come skill Però sì Sta cosa È proprio vera È come se stanno mostrando Dragon's Dogma 1 completo Per adesso Perché ti mostrano i lupi Ciclopi I goblin Il grifone Le classi base Sì ci stanno le cose nuove Ma lo dicono Guarda Guarda che il core è quello E si sta andando a tenere Tutta la roba nuova Tutta Qua un frame drop Greve Stop Bello Mentre cadeva Ha tirato una graniata Di Contro la roccia Oh Ma Peccato Ci ha provato Bravo L'ha fatto il test Perché il fatto è che È un po' un peccato Però capisco che questa è molto la cosa Purtroppo Che ci ha creato nella mente Zelda Cioè quella roba di Arrampicarsi a cazzo Ounque Sarebbe stata figa Però secondo me era una roba Che in un gioco del genere Ti buggava tantissimo Cioè perché O la struttura vi veramente Alla Breath of the Wild Cioè Non tanto di Grab Cioè io premo R2 Su un muro e mi attacco Ma magari continui a piottare Contro il muro E si attiva da sola Però La vedevo come roba Che si buggava Molto facilmente Avebbe creato una figata Perché tu la fai Ambele parti Ovviamente come roba Ce la fai anche per i ciclopi Cioè che sai che è bello Che tu stai in alto Magari il ciclopio Cominci ad arrampicarsi Perché è stupido Gli colpisci le mani E piomba giù Come una peragotta Oppure dall'alto Gli salti addosso Perché c'è la cosa Dell'impatto Però immagino Poi magari nel game finale Cioè Io arsi Mani Non so quanto Ce lavoreranno ancora Però non lo so Cioè mi sa di quella roba Che avrebbe rotto Un po' del level design Che c'è in Dragon's Dogma Perché in Dragon's Dogma C'è quella roba Di mettere le pedane di ghiaccio Il doppio salto L'usare i mostri L'usare le piattaforme C'è molto più puzzle Che è vero Poi ripeto Cioè quel tipo D'arrampicata È una cosa Che ha messo in gioco Zelda Prima di Zelda Mo' Di prima chitto Non è che è una roba Che mi è venuta tanto Altri giochi dove l'ho vista Poi l'ha presa anche Genshin E compagnia Per carità Sì Link si arrampica Proprio Di montagna ovunque Se non piove Il fatto è che è proprio La roba di Link Che è arcade Cioè Link Si attacca a un muro E cioè non ci sta Mezzo appiglio E comincia Tipo un cazzo de gatto Pianta le dita nel muro E va Però bello Cioè vedete come Ti accorgi subito Quando un gameplay Lo fa magari una persona Che sa che cazzo Sta a trattare E quando invece Non la fa una persona Che non sa niente Cioè sono proprio due cose Diametralmente opposte Cioè mi sembra di rivedere Veramente il giornalista Che prova a fare il tutorial Di Cuphead Perché si vede Quando c'è un fan Perché la prima cosa Che ha fatto È lanciarsi In acqua Per vedere Posso notare Il provare ad arrampicarsi Il vedere Se c'era anche Quello stile vecchio Perché ho visto subito Che ha fatto proprio Come combatteva Era proprio Dragon's Dogma 1 Perché c'era Il colpo dello sguardo L'attacco in salto Pesante Che è uno degli attacchi Più fighi del guerriero Perché c'ha un potere Di stun incredibile Cioè si vedeva proprio Che stava a casa Ha detto vabbè Fammi provare a fare Come facevo un tempo Sì funziona Funziona Sembrano due giochi Sì sì ma Come ho detto Capcom Prendi uno stronzo Che sa giocare a sto gioco Dagli una figa di demo E fagli fare Paga qualche influencer Per fare Un'oretta Qualche episodio Qualche live Su la demo Perché se lo dai in mano A persone così a cacchio E gli fai fare i gameplay Soprattutto a molti giornalisti I rischi che passa come L'action di turno Quando no Ripeto Un gameplay da guerriero Dove non c'è il parry È È inutile Nel senso È la tua arma più forte Quella roba UN Allez Un było Un sabes Che buà Un Cuor Un Un Uno Un Do Oh Un Un Grazie.